Ciao a tutti, sono Simona Belloni, Presidente dell'Associazione Culturale Carti di Millesimo. Per il Festival Carti delle Arti 2016 ho scelto alcune opere partecipanti al concorso letterario, una per autore. Ascoltatelo attentamente e votate. E chi vinca il migliore. Buon ascolto. Aiku di Maurizio Manfredi di Savona La libellula, inseguendo la luce, vola veloce. L'esto saltava il merlo tra i rami della magnolia. Fiocchi di neve, farfalle che imbruchi, si trasformano. Rosa di macchia, la fragile bellezza che non coglierò. Alba gelata, opaca bruma sale dal lento fiume. Eccomi qui con te Non smetti di sorprendermi Non so la strada che Oggi sceglierai per me